In Francia, a martedì, è stato approvato, in prima lettura dall'Assemblea nazionale, il progetto di legge sul separatismo, meglio conosciuto come progetto contro il separatismo religioso. Il progetto di legge è volto a sanzionare comportamenti o ideologie contrarie ai valori della Repubblica, in modo particolare l'islamismo radicale tutela comunque l'esercizio di culto. La legge, voluta fortemente dal presidente Macron, è considerata tra gli ultimi grandi interventi del suo mandato presidenziale. È probabilmente uno dei più discussi. Vuole, tra le altre cose, rinforzare un servizio pubblico che deve essere al di sopra delle parti, avere i mezzi per combattere l'odio online, inquadrare gli insegnamenti all'interno del nucleo familiare, controllare in modo più puntuale le associazioni, combattere poligamia e matrimoni forzati. Il testo di legge è criticato in modo particolare dalla sinistra, francese, critiche condivise da molte associazioni e personalità del mondo islamico francese. Il 30 marzo il testo a proda in Senato dovrebbe essere adottato prima dell'estate.